full stack ex diamante contro su favela che vita di merda è il momento di far capire a questi a queste pulci chi comanda qui dentro chat let's go chat con dove sento solifanzo tutti sti piedi no non ho paura aspetta ah ma tu ne hai lasciato la porta a lì ah c'è una qui penso non era lesion recuperare il disinnescatore guarda che disinnescatore è stato che è il disinnescatore è il disinnescatore ultimo uomo è il disinnescatore abbiamo il disinnescatore attaccante è stato eliminato film .. peccato ragazzi eravamo entrati perfetti quella cretina lì che c*****a era accanto a me Chi era quello con la bomba? DASMI IL NOME Chi era quello con la bomba? Quel tossico di merda, terrore Planta sta c***o di bomba Eeeh E plante c***o di bomba Manate, manate E cat away Una bomba di bomba con due C***o che sto giocando contro full stack Fa vera Come on Come on no Sta passato non muori Strums Ok, basta Chiedo scusa Una comportazione molto sleale Quindi chiedo scusa Ce l'abbiamo fatta ragazzi Un applauso Woo Allora sono nello sterco Nello sterco Sono Vai qua Mamma mia Torni un occhio Cosa fai Ok No io lì non ci vado solo raga Ma c'era il drone? No Ma c'è qualcuno sopra? Posso entrare? Che c'è qui? Conosco sta mappa di me Ho paura C'è un buro Amazzo Sto ricaricando 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 Raga però che palle Non conosce la mappa Veramente Cristo E' veramente un problema Mio dio Non conosce la mappa E' tipo Lo schifo Veramente Sto ricaricando No Cosa Ch sogenan Buon engage in elevator, I see I literally don't know this I don't ping too ah 40 HP in pilla ok dai ci stiamo un attimo stiamo capendo i nostri cosi elettrici qua l'abbiamo messi bene comunque sta skin è figa sull'arma di Kaid ho rotto un drone ottimo io copro questa parte se non ricordo male c'è una porta qua vediamo l'interia uno uscirà a breve ok quello è morto ultimo nemico rimasto vediamo faccio silenzio stiamo giocando molto bene è un po' sbilanciata la squadra sinceramente c'è quello che tipo penso giochi solo favela gli altri che non sanno neanche cosa sia favela io che l'ho scritta nelle mappe che odio quindi c'è un dislivello diciamo c'è un ci sono delle sezioni un po' diverse nel team delle categorie xxxxxxxxxxxx molto palti perché mi fotti Kaid scusami sono usato così bene che veramente spostati perché perché mi devono fregare quello che ho usato Ah, questi, sai, caide quelli fighi? Ma i coglioni Interessante 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 In ping, in ping Out Nice Questa è un attacco eliminato, attenzione completata Che cosa... Ero un ninja Ero un gatto miaoo così Senza conoscere la mappa, quindi andavo proprio A c***o da cane, ma... Ma... La mia mappa preferita, come faccio a perdere 1v1, ragazzi? La so come la mia casa Questa bellissima mappa, ormai La conosco a memoria Comunque, ragazzi, ho fatto il crutch C'è il crutch, 1v1 e nessuno mi ha detto bravo Questa masal Questa masal Questa masal Questa masal Il mio 1v1 Così E nessuno di voi Mi ha zazzato a dire Bravo, Raziv Ehm Un operatore alleato rimasto Perfetto Allora, uno è sopra Uno è nella scala lì, secondo me Quindici secondi Ultimo nemico rimasto Ancora cinque secondi Ancora cinque secondi Si non è rischio Disinnessatore di bombe fiazzato Io sto Divinnessatore individuale Capere Missione fallita Difensori neutrali Dai 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 che fall Ragazzi sto mettendo tutto l'amore del mondo Ma non conosco la map Cioè io quando sono uscito da quella porta Alla fine in quella stanza con i fiori Io non sapevo minimamente la stanza Cioè io sono uscito di palla cieca Beh vediamo che stanza ci sarà Il grande fratello Il confessionale Non lo so Mannaggia Comunque è la partita della vita di legacy Perché c'ha 1.09 Staffa 16-3-1 Dai ma quello già c'ha 3 HP Dai No zio ma puoi crashare Ma tu mi stai dicendo proprio Senti zi devi perdere Hai rotto le palle Ma puoi dai però papà Ma che cazzo Ah c'hanno pure il drone rubato Dio Quanta rischiata Quanta rischiata Si è morto Si è morto One below Ah c'è lui Ok Il disinnescatore è stato recuperato Ragazzi abbiamo perso questo Quello sta Mi aiuta Sono un operatore Attaccante neutralizzato 8 kill questo Ma secondo me c'è Ma 100-100 La sua partita si Potrebbe essere La partita dell'anno Ok però cammina troppo Killando Capita C'è pure poco fa O se gli ha prestato qualcuno L'account O questo città Io ve lo dico Perché si è portato Bimbo nutelloso Uno e due Suoi compagni Che sicuramente 100-100 Li sta boostando Ma li sta boostando Cittando Secondo me Allora so raga È particolare Non lo sto vedendo È una mia impressione Ovviamente quando Sono compagni È un po' difficile Capire se cittano Ma vedendo L'account O è account Sherry Quindi che gli hanno Prestato l'account Regalato Comprato Non lo so La vedo un po' Scura Buono Ok È arrivato A 20 kill 24 Va bene Ok Questo me lo Specterei Sinceramente Chat È forte A quello Non ci sono dubbi Voglio capire Se è uno Smurf Che si è fatto Dare l'account Da un amico O se l'è comprato Che è comunque Illegale O altro O un cheater Sono due le opzioni Guarda che ti vedo Ho una traccia fresca Bello quello Che abbiamo preso Ragazzi Per i nostri amici Is Rook Ma sono rischiato Un botto Con il C4 Ma è un pazzo La bomba lì Ok È per me Alla strada Strada Stada Strada Ok, go Buono, madonna il jackal quanto è forte, raga Jackal quanto è forte È fortissimo jackal Da lì, dai piedini l'avevo capito Che era giù Quanto è forte jackal E poi uno si chiede perché vengono Viene banato jackal E OP Jackal è devastante Comunque, quel 22-4 Mmm Cioè, noi abbiamo fatto la nostra partita 9-5 Rispettabilissimo, De Cristo Cioè, potrei essere primo Solo che quel 22 Insomma, che sta giocando Ha fatto l'avviso, ha chiamato i cani Platino 2 pure Si È stupido che fa sempre 360 Scusatemi Ma che fai 360 Wow, ma che c***o fai Mi giuro, lo chiamerei Ma che c***o fai Ma perché La squadra d'attacco ha trovato una bomba Ha, ma che c***o fai Ah 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 Hello Ah Hello Ah 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 Hello What is this Hmm Hmm Potrebbe essere una casualità Che lo locca Hmm Lo ha proprio Loccato Gli ha proprio stretto i testicoli Gli ha detto Mmm Solido uomo sei Se prima non dubitavo Ma mi puzza Ma raga ma Chat Ma lo capì Ma che cos'è Ma che cos'è Cosa questo cosa Come fai a capire Che è lì Come Come fai Ma l'avete visto Ma lo tracca Che tu dice un caso Ma è un caso più un caso più un caso Ma guarda qua Come fa a sapere che lì Ma c'ha le cuffie della nasa veramente Ma Mi trigger Guardate qua E' come se ci avesse ogni tanto il aimlock Che gli parte la stack Ma l'avete visto Siamo mai citta raga Questo era Il mitico Legacy 22 4 Su Favera Io Vi ho fatto vedere pure il replay Cioè vi ho mostrato la partita Vi ho fatto Abbiamo giocato Vi ho fatto dei replay Secondo me Dopo aver visto delle piccole cose Era molto bravo Casamai a nasconderle Tutto molto bravo Ma non dronava mai Ho visto quel flick loccato Ho visto come ha pure loccato Quello in difesa a sinistra Dove c'erano gli scatoloni Quindi secondo me Conclusione eccitata Si No No Flavio No 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 No